io sono ansiosa devo toccare cose si anch'io vedi sto rompendo tutti i pezzetti di legno che trovo qui sotto e sono tanti ma è una mania che ho io in generale anche io ok ragazzi è emozionata quindi andateci piano è il suo primo video su youtube ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale se siete nuovi benvenuti mi chiamo Gemma Cocca e faccio video su tante cose quindi se ancora non l'avete fatto fate clic sul pulsante qua sotto con scritto iscriviti per restare connessi e se fate clic anche sulla campanellina vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un video allora oggi sono qui con Simone dei fancazzisti anonimi e boh cioè a caso completamente a caso no però io voglio dire come ci siamo conosciuti cioè come è nata l'amicizia con il video della cacca è divertente come voi ben saprete ho fatto il video su come fare la cacca perfetta i sette trucchi e quando l'ho fatto ho pensato secondo me potrebbe piacere a Simone così perché vabbè io lo seguivo dai tempi dei fancazzisti anonimi giustamente certo potrà sicuramente piacergli la cacca no a Simone ovviamente e quindi facendo la storia su Instagram ho taggato lui e qualcun altro ma io l'avevo già visto tu l'avevi visto io l'avevo già troppo tardi era già arrivato a me me l'avevano mandato dicendo guarda sta matta di che parla sono messo lì a guardarlo tutto ovviamente e ho preso nuove tecniche per cagare ovviamente quindi è stato molto interessante e istruttivo grazie e quel video è stato poi argomento di conversazione tra me e lei per i restanti no quasi sì sì quasi un anno sì quasi un anno fino a che non ci siamo ritrovati qua adesso a caso sì perché ci siamo riusciti a incontrare e quindi adesso faremo la cacca in diretta in un parco che mi sono dimenticata come si chiama quindi taglio perché non me lo ricordo ho pensato di fare un video con Simone tralasciando l'argomento cacca perché dai basta però in qualche modo ce lo infilerò un sacco sì sicuro per forza perché io infilo dappertutto l'argomento cacca volevo parlare più di aspettative di dialogo interno di ansia da prestazione tutte quelle cose che a volte ci bloccano dal fare qualcosa a volte abbiamo in mente dei piani dei progetti e a volte capita almeno non so se capita anche a te quindi te lo chiedo così in diretta che penso di voler fare qualcosa poi nella mia testa mi faccio il film su come potrebbe andare questa cosa vedo come mi sento riguardo il film che mi sono fatta di questa cosa e se la sensazione è positiva la faccio se è negativa non la faccio cioè una stessa tipo ora venire qua a Milano ho pensato ok vado a trovare la mia amica e faccio il video con Simone e ho pensato ok potrebbe andare bene però un po' di ansia anche mi sono venuta magari non riusciamo a trovare un argomento di conversazione cose del genere poi l'ho voluto fare perché comunque dopo quasi un anno che ci sentiamo secondo me cioè ero abbastanza convinta di essere mandati d'accordo però una parte di me comunque si è fatta un po' di paranoia un po' di paranoia tutte queste cose qua mi sono persa quindi vuoi dire qualcosa ok ok allora ovviamente sì cioè capita anche a me è una cosa abbastanza comune anzi più di quello che ti potresti immaginare perché sono una persona molto più insicura di quello che potrebbe sembrare cioè diciamo che fancazzisti anonimi ad esempio nel mio caso con il mio canale mi ha aiutato tantissimo a rompere proprio questo lato di me che c'è nella realtà io sono una persona tendenzialmente estremamente timida soprattutto con le persone che non conosco beh infatti cioè io ho sempre notato questa questa cosa di me no che l'unico momento in cui non sono in totale ansia o agitazione è quando ho a fianco qualcuno che conosco o delle persone che conosco un po' come la legge del branco si senti più forte e quindi ma non solo che conosci cioè persone che sai che puoi essere te stesso con quelle persone penso no? sì che sai che sei apprezzato che ti conoscono già quindi anche se poi mi ritrovo in situazioni che mi possono provocare ansia dove ci sono nuove persone o io che devo essere messo alla prova in situazioni davanti ad altre persone ho sempre cercato di fare cose nuove avventurarmi in cose con i miei amici esempio il mio canale di fancazzisti anoni perché da solo all'epoca non avrei mai potuto fare una cosa del genere non sarei mai risultato così spigliato invece youtube mi ha aiutato a migliorare questa cosa però in generale mi è rimasta ancora quando faccio cose nuove e ho sempre l'ansia adesso ho molta ansia di prestazione sono appena ritornato su youtube sto lavorando a questo nuovo progetto quindi sì è una cosa che comprendo benissimo e purtroppo ha colpito anche me cioè io mi cago molto più sotto di quello che lascio vedere e sono molto più umano di quello che lascio vedere fa molto piacere cioè veramente sentirlo perché come cioè un discorso che ultimamente ho molto in testa è che spesso le persone di successo che hanno raggiunto una certa notorietà fanno vedere tramite i social o quello che è sono i momenti della loro vita in cui le cose sono cioè vanno bene perfette tutto a posto quindi nasce spontaneo poi il paragone e dici ma io cioè che ci provo a fare se già facendo delle piccole cose vedo che proprio va tutto male io potrei portare come esempio all'inizio quando provavo a fare dei video che proprio lo sfascio cioè stavo una giornata intera con il movie maker a editare i video poi magari io perdevo tutto il progetto perché non è che c'era questo salvataggio della madonna oppure andava via un attimo la corrente e perdevo tutto oppure cioè quando internet era ancora un po' più lento e non ci mettevi dieci minuti a caricare un video ma come cazzo fanno quelli che lo fanno e che sono diventati cioè non ce li hanno i problemi nella vita no ma che cazzo stai ma tu non ne hai idea cioè io che filmo 20 minuti e poi il microfono non aveva filmato di primo in 30 secondi cioè come fanno a non impazzire allora a parte che no sdoganiamo questa cosa io non conosco youtuber almeno parlando a tema youtuber poi se andiamo a parlare di altri sì ora questo l'ho portato come esempio perché fa parte questo ambito non esiste il non avere problemi vabbè io ora sono diventato uber esperto di queste cose problemi imprevisti e cose così tant'è che quando vado a preparare un video che ha un attimino un po' più di complessità alle spalle di lavoro dietro le quinte eccetera conoscendo tutti i problemi improvvisati che possono avvenire sai dopo anni che uno fa video eccetera mi preparo in anticipo tipo telecamere di sostituzione microfoni eccetera ma comunque aspettati ogni volta ci sarà sempre qualche cazzo di rottura di bar posso dirlo qualche rottura di scatole incredibile che poi ti porta a dire per dindirindina non posso fare il video come fanno quelli che lo fanno quindi sì però io purtroppo in questo caso non sono proprio la persona più adatta con cui parlarne perché ammetto che io non ho idoli non ho persone di cui guardo la vita sei tu il tuo idolo no no proprio in generale cioè sono una di quelle veramente rare persone che sono convinto di questa cosa ti dico che anche se incontrassi davanti tutto il cast degli Avengers e sono super fan degli Avengers non impazzirei cioè sarei contento ma non farei tipo e non sono uno di quelli che si guarda ad esempio le storie degli altri che ha notato questa cosa so che c'è tipo esempio sento spesso parlare di Chiara Ferragni Fedez hanno sta vita perfetta eccetera e magari loro sono tra quelli che non fanno mai vedere le cose proprio loro ogni tanto devo dire qualcosa mettono anche di imperfetto quando hanno qualche problema apprezzo che qualcosa mettono mettono ogni cazzo ma sì vabbè sostanzialmente io adesso ad esempio ho avuto una sorta un periodo di totale rifiuto del pubblicare la tua vita sui social le cose personali eccetera forse ho superato un po' troppo quel limite in anni passati ne ho pagato delle conseguenze e oggi mi ritrovo a non postare cioè ovviamente quello che posso sui social non equivale alla mia vita perché io cerco di non mostrare la mia vita personale quanto meno a meno che non sto in palestra e faccio o sto in giro e faccio una cazzata però le cose negative ad esempio tendo io a tenermele per me e paradossalmente apprezzo molto di più quelli che se ritengono per sé quelli che le mostrano tutte quante anche quelle positive che negative per mostrarci e basta per puro ecocentrismo ora scusate per le gambe bianche ma tanto penso che con tutte le zanzare piano piano le vedrete diventare rosse sì esatto ma non le avevo neanche notate il mio pubblico guarda i visi ah ok fai dei bei primi piani mi raccomando filtri a manetta io metto il filtro che tra un po' sarà ragione a posto perfetto la sarò abbronzata in questo video eh e ora no dico ah sì seria hai perso gli argomenti aiuto e voi quando guardate i miei video su youtube in questo momento stavamo tutti cagati con il cellulare in mano che bella immagine ma tanto già lo so non ti l'hai rispondito state cagando adesso vabbè il video ha completamente cambiato tema questa cosa è fantastica quindi siamo tornati alla cacca tra l'altro come si era detto all'inizio quindi tra un video vabbè perfettamente bilanciato volevo riprendere in mano l'argomento iniziale così facciamo finta che c'è stato il filologico sì quindi non può far finta quindi una cosa che ci tengo non so diciamo a proporre a voi ma anche una sorta di proporlo a me stessa di parlare magari anche anche con i vostri amici i vostri fidanzati dei momenti in cui le cose non vi vanno bene comunque condividerle perché a volte non ve lo aspettereste mai ma anche una persona a voi vicina può essere che sta spassando lo stesso identico conflitto interiore che state vivendo voi quindi poi è molto più facile superarlo se avete qualcuno che vi può dare anche altri punti di vista su come l'ha superato su come sta cercando di superarlo oppure i metodi che proprio non funzionano per niente io sono assolutamente d'accordo con questa cosa ecco allora se parliamo non a livello pubblico ma a livello di amicizia sì allora sì ha senso ovviamente cioè siamo animali sociali quindi abbiamo assolutamente bisogno di scambiare informazioni e sfogarci con gli amici mentre pubblicamente questa cosa si può fare ma in determinati modi sì ad esempio mi ha fatto venire in mente la mia ultima esperienza su youtube con l'ultimo video che ho postato dove in qualche modo è recentissimo una settimana fa forse neanche dove in qualche modo mi sono aperto come non mi sono mai aperto in tutta la mia vita aperto nel senso confidato non vorrei tornassimo all'argomento crack quindi su youtube ho confessato qualcosa ho passato un periodo negativo assolutamente poi non sono entrato esageratamente nei dettagli perché ovviamente quando ci sono dei confini no? la privacy è la privacy e mi ha sorpreso molto la reazione del pubblico che comunque ha accettato un cambiamento ha accettato quindi ci sono dei feedback bellissimi non me l'aspettavo è stato molto bello questa cosa non la dirò mai sul mio canale ne approfitto e dico su quest'altro ti puoi essere più smilata così i miei follower credono ancora che io sia un uomo di merda un uomo duro in realtà mi sono sciolto tantissimo è stata una notte intera guardare tutti i commenti che arrivano a profusione già che bello quasi è scesa una lacrimuccia ora questa cosa rimarrà qui che bello veramente piacevole invece per quanto riguarda il condividere le cose che non vanno benissimo nella nostra vita secondo me cioè ci sono modi e modi come persone ora non nominiamo però ne abbiamo parlato prima sì che magari rendono youtube quasi un piangere oddio è successo questo è successo quello invece secondo me una delle poche cose che apprezzo molto di me stessa nel momento in cui le cose vanno storte tutto quello che può andare storto va storto e mi è successo recentemente è che cerco sempre di capire quale è l'insegnamento diciamo che posso apprendere dalla cosa che mi è successa cosa posso utilizzare cosa posso fare meglio la volta successiva trarre il positivo dal negativo trarre il positivo a volte molto difficile certo a volte dici quel c***o non esiste il lato positivo e invece è proprio là quando dici che non esiste in realtà è proprio là e c'è qualcosa di tipo far fare il punto di svolta sì dipende solo da te cioè una cosa prima stavamo parlando di programmazione neurolinguistica io ti avevo raccontato di Massimiliano Secchi penso che qualcuno conosca Massimiliano Secchi sicuro metterai un link in descrizione su Massimiliano Secchi ci sono dei momenti in cui ti sembra impossibile vedere il lato positivo delle cose lui ad esempio non ha le braccia uno può dire cavolo non hai le braccia le braccia fino a qui è impossibile riuscire a fare le cose eppure tu ti puoi puoi sbattere i piedi puoi piangere puoi lamentarti quanto cazzo ti pare ma nulla ti farà veramente star meglio quanto cominciare a provare a martellarti la testa fino a che non riesci a fare la cosa che ti sembra impossibile di fare che sia superare un problema che sia un ostacolo studiare imparare a prendere un mestiere qualsiasi cosa è inutile lamentarsi sì sì ma guarda mi hai fatto venire in mezzo proprio questa cosa poi chiudo perché dura tutti gli ultimi minuti vabbè i contenuti ce li hai sì tantissimi vabbè praticamente una cioè a volte vorremmo fare una cosa e pensiamo quanto sarebbe bello ottenere una determinata cosa un progetto qualsiasi cosa però prima di vedere il progetto che sta là noi vediamo questo spazio di fiume di lava che dobbiamo oltrepassare e pensiamo cazzo però se non ci fosse questo quanto sarebbe bello riuscire ad essere già là e a volte non ci rendiamo conto che non saremmo in grado di gestire quello che c'è al di là se non riusciamo prima a trovare le forze e la maturità di attraversare questo fiume di lava come lo vogliamo sono proprio gli ostacoli iniziali che ti aiuti e veramente sono cose che a volte mi sono successe veramente cose che ho pensato sì ma al lato positivo non lo troverò mai e invece riuscire ad avere la fiducia che anche se al momento non lo riesci a trovare proprio per niente avere la fiducia che comunque cioè se non lo capisci oggi lo capirai domani sì 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 sono assolutamente d'accordo e diciamo che anche da un pezzo di merda può uscire un fiore quindi tanto per stare sempre in tema perché tutto è concime tutto è concime tutto coincide con quel video quindi cioè io penso che abbiamo detto tutto un finale migliore di questo non lo poteva essere siamo trovati del romanticismo anche nella merda quindi scrivetemi nei commenti se vi siete trovati mai in alcune delle varie situazioni che abbiamo descritto in questo canale e vabbè io ti ringrazio tantissimo per essere di questo 150 euro puoi pagare anche a nero non c'è nessun problema di nascosto sì 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 va bene allora ciao ci vediamo al prossimo video ciao ciao